Gentili telespettatori, buona giornata. E così Michele Santoro, ospite nella trasmissione di martedì di Giovanni Floris sulla Sette, proprio di ieri sera, arriva a fare un eclatante, incredibile paragone, somiglianza. Ecco, sentite che cosa arriva a dire Santoro. Dice che Giorgia Meloni è debole, perché basta dire questa storia che Meloni è brava e quelli che la circondano non lo sono. E così Michele Santoro avvalora esattamente quello che voleva Giovanni Floris. Giovanni Floris è da tempo che continua a dire nelle sue trasmissioni, ma abbiamo sempre detto che la Meloni è brava mentre i suoi non lo sono. E' veramente così. Quindi Floris è diverse puntate del suo programma di martedì che fa questa domanda, perché non lo vuole dire lui. Giovanni Floris si è convinto che la Meloni non è diversa dai suoi politici. Lui stesso dice che prima pensavo fosse diversa dai suoi politici, invece non dice niente. e fa la domanda e chiede ai suoi ospiti, ma allora abbiamo sempre detto che la Meloni era un vero politico, differente dai suoi, che era circondata da persone non adeguate, e chiede agli ospiti se è davvero così. Quindi diciamo che fino a qualche puntata fa nessuno seguiva il suo discorso. Poi Bersani è stato il primo a cominciare a dire no no, è lei che ha scelto questi politici, sono la stessa cosa. E oggi Santoro, anche lui, cede alle teorie di Giovanni Floris e dice appunto queste. Basta dire che la Meloni, questa storia che la Meloni è brava, ma è circondata da incapaci. Quelli che la circondano sono inadeguati perché lei è debole. Ecco, poi dice sono la stessa cosa, cioè il livello tra Del Mastro, Donzelli, Lollobrigida, La Sorella, sono tutti lo stesso livello, sono tutti la stessa cosa. Ecco, non c'è la Meloni che è più brava ed è circondata da persone che non sono brave in politica. E dice sono tutti uguali, dice Santoro. E aggiunge lei è debole. In che senso chiede Floris a Santoro che finalmente Santoro dice quello che Floris voleva sentirsi dire? Perché Floris che fa? Lui ha un'idea ma non dice l'idea, la fa dire agli altri o cerca di farla dire agli altri. E dopo diverse puntate Floris c'è riuscito e ha trovato degli ospiti che hanno seguito la sua teoria. La Meloni non è diversa dagli altri ma sono tutti uguali. E poi Floris chiede ma in che senso lei è debole? E Santoro risponde Lei non è così forte come dicono i giornali e i TG. È debole. Motivo per cui non si circonda di amichetti che neanche li trova, ma si circonda di parenti. Ma attenzione, si circonda di parenti. Allora, i parenti quali sono? La sorella Arianna e il cognato Lollo Brigida. La sorella Arianna e il cognato Lollo Brigida sono in politica da molti anni. Ma la sorella Arianna non è un deputato, non è un eurodeputato, non è un ministro, non è un sottosegretario. È stata nominata l'amministratrice, chiamiamola così, di Fratelli d'Italia. Cosa che lei già faceva prima però senza avere un ruolo ben specifico. Oggi segue l'amministrazione in termini generali del partito, ma non è una figura politica. È una figura amministrativa, gestisce il partito. Quindi non ricopre nessun incarico in politica. La Meloni non ha messo la sorella come ministro o come parlamentare. Mentre il cognato Lollo Brigida, evidentemente che è in Fratelli d'Italia da molti anni, è diventato ministro in quanto fedelissimo della Meloni. Poi ha sposato la sorella, però non ci vedo io come ci vedono in tanti la famiglia in politica della Meloni. Ecco, ma Santoro la pensa in maniera differente. Dice, non vorrei essere equivocato, ma i mafiosi si creano una famiglia. Lei ha paura dei colpi che le possono arrivare. Si deve guardare dagli amici. Un chiaro riferimento, quello di Santoro, alle parole pronunciate dal presidente del Consiglio poche ore prima, con la nomina di Luca De Fusco, nuovo direttore del Teatro di Roma, e la Meloni aveva detto Il tempo dell'amichettismo è finito. Per le nomine pubbliche le tessere del PD non fanno più punteggio. Conta il merito. Allora, il fatto che la Meloni si crea una famiglia come i mafiosi, perché lì è arrivato Santoro, dice che i mafiosi è la famiglia criminale, quindi il capofamiglia, a parte che la famiglia mafiosa, dove c'è il capofamiglia, in realtà non è propriamente tutta una famiglia, ma ci sono dentro membri della famiglia, ma membri anche esterni. Comunque lui è arrivato a fare una specie di collegamento tra la famiglia mafiosa, dove c'è il boss, il padrino, circondato dai familiari, perché quelli di cui si può fidare sono i familiari, non gli amici, dice la Premier, un po' come fanno, dice non vorrei però essere equivocato, come fanno i mafiosi, si circonda della famiglia. In realtà, come vi dicevo prima, tutta questa famiglia non c'è, perché la sorella è sempre stata nel partito, ecco, non è che è arrivata dopo che lei è diventata Premier, il cognato ministro è sempre stato nel partito, non è che è arrivato e faceva prima il muratore, ecco. Naturalmente oggi è finito il tempo dell'amichettismo di sinistra, e l'amichettismo di sinistra viene sostituito con l'amichettismo di destra. Oggi vengono nominati quelli di destra, togliendo le poltrone a quelli di sinistra, che hanno governato fino a un anno fa, scadono le nomine e arrivano quelli di destra. Quindi oggi diciamo che non c'è la logica del curriculum, c'è la logica dell'appartenenza politica, poi se c'è il curriculum, meglio, però è un curriculum comunque di gente di destra oggi, parliamoci chiaro. Grazie a tutti e arrivederci a presto.